Grazie per la visione! L'intervallo della rara Forza Ammate Old Football, risultato di 1-0 per le Forze Ammate, andiamo a intervistare i giocatori. Schiano, Schiano, numero 3, 1-0, state giocando davvero bene, avete rischiato solo su due palle, due tiri dalla distanza, però la squadra c'è. Sì, dobbiamo corretizzare di più, ci stiamo mangiando troppi gol, c'è tutto il secondo tempo che venga migliore. Buongiorno per la ripresa, rapido! Andiamo dall'ultimo, colante uno! Cacciaputi, vai che sei lì, cacciaputi, dai! Cacciaputi, 1-0 avete avuto due occasioni di tiri dalla distanza, però la squadra per stare anche vi stava facendo soffrire l'indice. Loro hanno fatto un tiro e un gol, anzi 10 tiri e un gol, noi 4 tiri e mezzo gol, dobbiamo rivedere e giocare un po' più avanti. Ci manda qualcosa in fase offensiva a loro, un po' di umiltà. Va bene, in bocca a loro per la grida. Siamo presenta la terza giornata, girone B del Super 8, Old Football contro Forza Ammate. 1-1, bellissima partita, siamo qui con i migliori in campo, i due voltieri, allievo contro maestro, i cricero, che consegniamo una medaglia e il buono sconto di l'impiego della lotta Emerson, e di Lorenzo, per l'ultima partita. Di Lorenzo, una partita, diciamo, bella, equilibrata, corretta, siete passati in svantaggio, per il secondo tempo avete trovato un bel gol di Colantrono, un fariggio giusto. Sì, giustissimo, va bene così, i ragazzi siamo impegnati dal primo minuto, l'età a noi si fa sentire, è più quella che è, però più è giusto. Stasera non la vedete sentire? Assolutamente, anche se ho mangiato un po' troppo prima, sai, è la mia carica. È la tua prima partita con l'Ubopulso, come l'hai vista questa squadra? Tranquillo, quello che volevo, ragazzi tranquilli, senza problema di classifica, cioè, ci dobbiamo divertire. Due partite, quattro punti, oltre la partita per questa tavolina, però stanno testate bene qua, sì. Vuoi fare un saluto, partiremo l'arra, a qualcuno che ti seguiva? No, vabbè, ai miei figli, a tutti gli amici, e a lui pure, pure a lui, faccio i complimenti a lui, che è stato con me, è veramente bravo lui. Va bene, grazie, grazie, ciao. Ci vediamo dopo allora, ciao. Complimenti. Il Luggero, migliore in campo, ho fatto davvero 4-5 prodizie, si può dire, come l'hai vista questa partita? Una partita, devo dire la verità, è equilibratissima, secondo me saranno due squadre che andranno lontano, perché anche loro sono una buonissima squadra. Venivamo da due vittorie contro due buone squadre, però questa è quella che mi ha impressionato di più, ed è una che secondo me si giocherà il titolo. Cosa ci manca nella tua squadra per fare che è stato di qualità? Ci manca la docca, i prezzi in avanti, oggi troppi gol divorati davanti alla porta, e così non va bene, non andiamo da nessuna parte, però siamo una buona squadra, ci crediamo e cerchiamo di arrivare il più lontano possibile. Vuoi fare una dedica per la medaglia? Una dedica ai miei amici e a tutti i componenti della squadra. Va bene, complimenti alla prossima, ciao.